Il fiore pregò tanto la stagione affinché gli conservasse la bellezza della giovinezza e la stagione disse è legge che io non possa ma la bellezza è un tratto della vita e un tratto della vita può essere raccontato da un'immagine l'immagine così usci dal tempo per raccontar del fiore la stagione